E da oggi fino al 19 ottobre la 29esima edizione di Futuro Remoto, la festa della scienza che abbatte le frontiere. In collegamento da Piazza del Plebiscito per Futuro Remoto c'è Margherita Rosciano. Margherita, una grande festa della scienza ma anche della partecipazione sociale. Sì, proprio così. Buongiorno, siamo in Piazza del Plebiscito, alle 10 l'inaugurazione Il Taglio del Nastro di Futuro Remoto, il grande festival della scienza campano che arriva in Piazza del Plebiscito. Come vedete intorno a noi, tanti i padiglioni, il tema di quest'anno, le frontiere, infatti alle mie spalle tutta la difesa e le forze dell'ordine perché questo delicato lavoro è affidato proprio a loro, grazie soprattutto alla tecnologia. Tante le novità, l'abbattimento di un muro, un orto biologico, ma i particolari ce li spiega Luigi Amodio, direttore di Città della Scienza. Buongiorno a tutti. Sì, Futuro Remoto quest'anno è la grande festa della scienza, della cultura, della tecnologia che viene al centro della città. Una festa voluta fortemente da Città della Scienza con l'Università di Napoli Federico II, l'Ufficio Scolastico Regionale, ma anche tantissimi centri di ricerca, le altre università della Campania, le scuole. Insomma, un momento davvero corale di partecipazione al centro della città, proprio per dimostrare che c'è una Campania che fa, che produce, che ricerca, che guarda al futuro e che è giusto quindi farla vedere a tanti cittadini. Ecco, la ricerca non ha frontiere, il villaggio sarà aperto a tutti, gratuito, fino a lunedì. Il direttore indossa la maglietta gialla, facciamola vedere, dello staff in viaggio attraverso le frontiere, ripetiamo, non hanno confini. Lo staff a cui ci si può rivolgere per simulare, per cui grande divertimento per grandi e per bambini. Noi adesso entriamo, ringraziamo Luigi Amodio, direttore di Città della Scienza, nel padiglione del Cira, per cui parliamo di naturalmente ricerche aerospaziali. C'è il presidente, tantissime le meraviglie di simulatori, Luigi Carrino. Buongiorno. Benvenuti nello spazio. Qui veramente i visitatori potranno immergersi in una dimensione per loro del tutto nuova. Questo simulatore consente di viaggiare intorno alla Stazione Spaziale Internazionale, esattamente come fanno gli astronauti per addestrarsi a riconoscerne le diverse parti. Grazie a questi occhiali virtuali si potrà proprio immergersi. Assolutamente non ci sarà quasi nessuna differenza, se non il fatto di non avere la tuta, rispetto a quello che accade agli astronauti. E poi ancora meraviglie? Sì, questa è un'altra cosa molto importante, perché X-38 è la navicella spaziale che la NASA ha progettato per eventuali missioni di soccorso agli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Queste piattaforme viaggiano a velocità di 27.000 km orari e raggiungono temperature di migliaia di gradi. Al Cira c'è l'impianto più performante al mondo per riprodurre sulla Terra queste condizioni estreme. Ancora un simulatore, ripetiamo, c'è divertimento per tutti? Divertimento e istruzione per tutti. Questo è un simulatore delle condizioni di volo, quindi siamo passati all'aeronautica. Qui chi usa il simulatore potrà immaginare di essere un pilota, noi invece lo usiamo per mettere a punto i sistemi di sicurezza degli aerei. E poi ci sono ancora dei prototipi, oggi si parla tanto logicamente appunto di droni di ricerca. Sì, questi non sono solo dei prototipi, li abbiamo già usati in collaborazione con la Procura di Santa Maria Capoavetere e con altre istituzioni, servono per il monitoraggio del territorio e per il contrasto alle ecomafie. Infatti ricordiamo all'esterno abbiamo le forze della difesa, naturalmente proprio per loro, grazie al loro lavoro si parla di frontiere e naturalmente di sicurezza e di ordine, proprio grazie alla tecnologia. Noi ringraziamo Luigi Carrino, il presidente del Cira, ripetiamo, del padiglione non solo in questo, i padiglioni sono nove, c'è tanto da provare e simulare per grandi e naturalmente per ragazzi. Parliamo di ragazzi, di giovani, fin dai bambini, ufficio scolastico regionale e università. C'è Gaetano Manfredi, il rettore dell'Università Federico II di Napoli, tutto questo anche grazie all'Università Federico II, naturalmente più che storica. Qual è il vostro apporto? Moltissimi degli esperimenti e delle performance che verranno presentate durante questi quattro giorni sono stati realizzati nei nostri laboratori, dai nostri ricercatori, dai nostri dottori di ricerca, dai nostri docenti. Ad esempio, già qua si vede che questa ala adattiva è stata frutto di una collaborazione tra il Cira e la Federico II e proprio simula nel volo il comportamento degli uccelli. Tantissime frontiere, il tema sono proprio le frontiere, vengono oltrepassate ogni giorno nei nostri laboratori, nelle nostre aule e noi cerchiamo di fare sempre il meglio possibile. Il tema le frontiere, all'esterno c'è un muro che ogni giorno una parte verrà abbattuta da un testimonial, ieri in una sorta di pre-inaugurazione, infatti abbiamo detto è la cultura che non ha frontiere e soprattutto la ricerca, un primo pezzetto metaforico da un ricercatore, non parliamo più di fuga di cervelli, noi l'abbiamo prestato. Sì, l'abbiamo prestato, la ricerca ha una dimensione internazionale per sua natura e noi abbiamo tantissimi nostri ricercatori e nostri docenti che lavorano in tutto il mondo, ritornano e collaborano con noi. In questi quattro giorni i cittadini potranno vedere che cosa si fa nelle nostre università, ricerca di altissima qualità, abbiamo più di cento performance che verranno mostrate e che toccheranno tantissimi campi, campi scientifici, campi tecnologici, ma guarderanno anche al futuro dell'uomo, alle nuove città, alla tolleranza, a tutto. Mi perdoni se la interrompo, il tempo stringe, perché abbiamo detto fino a lunedì, Futuro Remoto in piazza del Plebiscito, aperto a tutti. La linea torna allo studio. Voltiamo ancora a pagina in piazza del Plebiscito a Napoli, da oggi l'intreccio affascinante tra scienza e fantascienza alla 29esima edizione di Futuro Remoto, alla conquista dal centro della città, tanto da vedere e da fare, moltissimi gli studenti già tra gli stand, ma ci guida in questa edizione in diretta Margherita Rosciano. Buon pomeriggio a tutta la campagna, questo è il villaggio di Futuro Remoto, il grande incontro della scienza campana da anni e da anni, proprio qui in piazza del Plebiscito. Migliaia gli studenti che già sono arrivati tutta la mattinata all'inaugurazione alle 10 con il sindaco di Napoli e con il rettore Gattano Manfredi dell'Università Federico II, perché tutto questo è grazie a Città della Scienza, alle università e naturalmente a tanti attori. Tema di quest'anno le frontiere, per cui l'apertura dallo spazio alla terra, mai più appunto chiusure, come ci testimonia, c'è anche un muro che sarà ogni giorno abbattuto da un testimonial, proprio Ignacio Ramonet, giornalista, scrittore e direttore del Mundo. Per cui, qual è il significato del suo arrivo a Napoli? Stiamo qui perché partecipando in una tavola redonda questa serata, alle 19, sul tema delle frontiere, dei migranti e dei rifugiati. Dopo questa tavola redonda andremo a questo muro che sta qui simbolico e comincieremo a scrollarlo, a abattirlo, perché pensiamo che vogliamo un mondo senza muri. Grazie, per cui un mondo senza muri, appunto le frontiere, con noi c'è Vincenzo Lipardi, consigliere di Città della Scienza. Ma guarda, io devo dire, sono molto felice. Oggi a Piazza del Plebiscito abbiamo aperto questa grande manifestazione con 20.000 ragazzi e tanta gente che è venuta. Cosa hanno trovato? Hanno trovato l'Italia più bella, la Napoli più bella. Sette università, 400-300 di ricerca, associazioni, volontari, mille volontari che hanno realizzato Futuro Remoto. Con un messaggio possiamo costruire un'Italia e un mondo che si vale sul pace e sviluppo. E un'altra cosa molto bella, accanto alla scienza, accanto alla cultura, lo Stato. Ecco, qui avremo tutti gli organi del Stato, dalla polizia all'esercito, che danno un po' un senso. Il senso che questo nostro Paese può combattere criminalità, ma la fare anche un po' di sfiducia, soltanto se è capace di guardare con speranza, fare squadra e guardare, costruire una nuova Italia. Ecco infatti Antonio Grilletto del Ministero della Difesa, qui tutte le forze armate e naturalmente le forze dell'ordine. La tecnologia appunto ci aiuta anche nell'accoglienza. Sì, lo Stato Maggiore della Difesa è presente a questa bellissima manifestazione con le sue forze armate, esercito, marine, aeronautiche e carabinieri ed espone la sua tecnologia più avanzata che impiega per la sicurezza dei cittadini in Italia, quindi per i fini istituzionali garantiti dalla Costituzione, ma non solo, come direbbero, o anche oltre le frontiere, con le numerose missioni di peacekeeping in atto e in assetto duale. Questo è un concetto molto importante perché lo abbiamo anche per le calamità assetti per fini istituzionali compatibili con le calamità. Ecco, ricordiamo che il villaggio di futuro remoto sarà qui a Piazza del Plebiscito fino a lunedì 19. La linea torna allo studio. Lo sport e il calcio aspettando Napoli-Fiorentina, Nello di Costanzo. Quello con la Fiorentina o San Paolo è un match che rievoca uno dei più bei ricordi impressi nella mente dei tifosi azzurri. Un ricordo bello, indelebile, datato 10 maggio 1987. Un pari con la Viola per 1-1 che permise a Napoli di vincere il primo scudetto della sua storia. Ripercorriamo gli ultimi minuti di quella gara nella famosa radiocronaca di Enrico Ameri in tutto il calcio minuto per minuto. Signori, siamo giunti al 44 minuto e 41 secondi. Quindi mancherebbe, è finita, è finita. Il Napoli è campione d'Italia. 28 anni dopo, gli azzurri affrontano la capolista fiorentina in una gara importante per l'alta classifica. In un San Paolo carico di entusiasmo, grimito in ogni ordine di posto, con oltre 50.000 spettatori. Da Firenze è previsto l'arrivo di circa 1.500 tifosi gigliati. Sul fronte formazione, Sarri intenzionato a schierare lo stesso undici che ha battuto Juve e Milan. Ci sarà anche in segne, unico dubbio, Coulibaly, affetto da uno stato di affaticamento. In Serie B, Avellino in campo questa sera al Partenio contro il Brescia nell'anticipo dell'ottava giornata. Gli Irpini cercano conferme dopo il buon pareggio di Livorno. Grazie per l'attenzione e tutto. Prossima edizione alle 19.35. Arrivederci, buon pomeriggio. Migliaia di visitatori anche oggi in piazza del plebiscito a Napoli per la 29esima edizione di Futuro Remoto. Nell'ambito delle iniziative è anche la due giorni promossa dall'Accademia delle Belle Arti partenopea sul rapporto tra arti e filosofia. Stasera le conclusioni con il direttore dell'Accademia Giuseppe Gaeta che sottolinea l'importanza della ricerca di identità e linguaggi comuni nell'era della comunicazione globale. Grande successo anche per gli appuntamenti di Futuro Remoto a Napoli in piazza del plebiscito il villaggio della scienza. Claudio Ciccarone Futuro Remoto 2015 è un successo. Piazza del plebiscito trasformata in un villaggio della scienza sta attirando a Napoli migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia. Un pubblico eterogeneo e entusiasta vaga quasi frastornato dall'ampia offerta di sapere scientifico tra le nuove tensostrutture installate tra il Palazzo Reale e la Chiesa di San Francesco di Padova. Portata sul territorio cioè all'interno della città credo che sia veramente stata un'idea una genialata ecco. Laboratori scientifici spettacoli dibattiti workshop conferenze dimostrazioni interattive soddisfano la fama di conoscenza scientifica dei visitatori con un percorso che attraversa il mare lo spazio la terra viaggi simboli città fabbriche cibo e alimentazione il corpo e la mente. E' una cosa nuova per Napoli e per i giovani principalmente che hanno bisogno di queste cose ci sono tante cose interessanti a me mi piacciono gli esperimenti quelli della fisica e del fondo con la pallina le forze magnetiche e dell'elettricità Futuro remoto 2015 la festa della divulgazione della curiosità scientifica a cura della fondazione IDIS città della scienza durerà fino a domani e dell'elettricità